Musica E benvenuti amici di youtube in questo nuovissimo video Io sono LunaX100 Il nome del pollo si esista sempre XfireBoss E gli altri due coglioni appresso Ma a cagare Ha fatto rompere un po' l'uolo Ragazzi adesso faremo una missione in overkill Da un giorno Sono un suino Guardate sono un suino Guardate il naso Sta zitto cognato Perché non sono tuo cognato Non dico a te Comunque Pagamento da 5 milioni Quindi un milione a testa Zitto che è facile Tassaro modo Vichino ad Obama Perché fu così Che ha giolo Che sono No già iniziamo con la maschera Perciò Quindi dobbiamo scatenare l'inferno Ascoltate fu così che ha inventato I polli Ma che cazzo Ma fa perché Mi cosa sono stati inventati i polli I polli I polli Prima l'uovo No Ragazzi mi fate un pollo Con voi un pollo Come lo vedete l'uovo Come lo vedete l'uovo Come lo vedete l'uovo Voglio una polla A pollo Ma ragazzi startiamo subito Dai se no Sfai post Start Guarda no Oh Ma scassato Siamo tutti quanti 75 livelli Overkill ma tu non stai bene Già sei molto difficile Non ce l'abbiamo fatta a stento Ah zitto che quello non era niente Ma cosa siamo morti tutti quanti Leggite leggite che serve Serve chi? Eh che cazzo è lei Ragazzi questa è la casa nostra Perfetto Oh Chi si è mangiato la mia pizza? E' finita la pizza Io Ma io già l'ho fatta questa missione Però era Abbiamo fatto con te Andiamo a comandare Era molto difficile Oh Xfire boss Vieni qua Non è vero che si parte con la scena Da qui ora Ho messo la maschina Fai Andiamo a comandare Prendila l'alarm in mano Guardi che è figo l'oro Avevo capito la rega Ragazzi è meglio la mia Ma quella la non fa un cazzo di danno No Occhio che sta arrivando Eh 80 quanto la pistola Eh appunto la pistola Ma Che poi alla fine è una metriatrice Invece la mia fa tipo 120 Un po' con le m Inchia butta una tua Cazzo vogliono questi con le luci Sono degli illuminati C'è un carrello della spesa Chi vuole fare A me Andiamo a mangiare i biscotti Qua quando la stavo facendo con Fire E ho detto Ma che dobbiamo saltare In realtà poi Sfira un ponte qua Io sono saltato lo stesso Cosa? Ecco E così impari a saltare Ma guarda come cazzo è morto E' morto su una ringhiera E' morto su una ringhiera E' una ringhiera che non ringhia più Poi mia sorella poteva mollare Basta con sta sorella Non ce ne fotte la tua sorella E' morto su una ringhiera Ma come stavano? Sfira un po' con le rotte E' morto su un'alline Fate fare a Lunarix E' morto su un'alline C4 E' morto su un'alline E' morto su un'alline E' morto su un'alline E' morto su un'alline Il mare i maiali non è che si dovrebbero stare i soldi qua dentro tu vai giù tu vai giù ti stupro la famiglia a questo qua è con noi o no fermi 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 a quanto pare si perché non si sta alzando coprite coprite sta mettendo gli esplosivi no no 5 bei milioni 5 bei milioni dai 1 mi stupro gli animali vieni qua a lontane che spade in faccia il cuore un'altra e ti cusci dentro la parola la brazza ma la presenza potenzio per fare questa cosa che fa e ci abbiamo visto mezz'ora perché non capiamo cosa dovevamo fare ma con quale faccia melodia occhio che qui non arrivano tantissimi dici oltre che quella che abbiamo fatto noi era normale johnny stavano pure un po no era difficile non era appunto il figlio da overkill non facciamo avocalisse ma tu sei pazzo tu sei pazzo ecco qua il secondo ah perchè overkill non è l'ultimo no si sta pure avocalisse vengono nei guardi con lo scudo e santo dio eh ma se lo distruggono subito lo scudo è con i jug però vengono i jug ragazzi ho preso un'aquila blu ragazzi attenti che arrivano pure da qua dovrebbero arrivare pure da qua e infatti c'era uno con lo scudo l'ho ucciso c'è il jug ma sei combo allora muore aiuto aiuto aiutò 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 il vetro ok perfetto io sono quasi morto e muori stronzo ma va a cagare crediamo c'è uno con lo scudo c'è uno con lo scudo ci penso io amori amori ricchiuni io lo scudo lo scudo fa a cagare la meta esatto fa a cagare pure si io non ho vita ragazzi mettete un medikit dove per te per xfire te lo metto va no vabbè ma pronto lo metto io ok tu hai fai avete le munizio no no io c'ho quello la uso singolo ma finchia come l'ho shotta da quello ecco qua ve ne ho messi due venite fai ma come in chi è che mi sparo eh lo devi proprio sapere ahia porco digimon ok io non ci sono altro ahia chi è dipende a quali si si è inceppato il trapano comunque raga vado io il trapano mio ma porco di quel canero ignoso ho detto che dovevo andare io qua non si fa proprio gioco di squadra qua uno se ne va l'altro se ne va no ci sei scusa aiuto lillo tesser aiuti il tesser raga aiuto ragazzi tesser aiutò no ma sono buttato a terra ok ma un medico porco porco cinghia di merda che cazzo fa ciao ma mi ero appena curato ma mori e mi hanno levato l'arma come ti hanno levato l'arma ah dai vengo io lillo non ti muovi grazie a molle a molle ma che per me vaffanculo tutto strump taser ho ucciso il civile tu già su po ma perchè e sbaglio cazzo sono i medici ma perchè perchè si è messo davanti uuuu minchia porco di quel canero e io mi chiedo perchè dovrebbero rossarci dei soldi qua dentro sono mori e metti i medici luna ma già ragazzi così finiscono subito se continuiamo così ma non la ma ho fatto tutti i titoli pò di medici come in vada io la capano son dato io giù ci sono io giù mi ha fatto non sono bene ma non è che è morto e di dove che mi ha fatto di l'ho file il nostro coltese da no lo mancino non ho mai un luo aiuto mannaggia ha il culo ma che dovrebbero tutto ma perchè farlo puri tu fermo grazie a me deve entrare in questo modo grava 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 no ma che vuole questo ok oh ragazzi ho squadra però raga picchia è vero ragazzi però dobbiamo restare uniti andavano tutto il tempo va bene ma cosi ti uccidono in tre secondi lilo però vieni perchè xxperbo se s'e ne vada da una parte e se ne vada da una parte restiamo stati a schiattare subito lillo dove vai lillo conteggio ah! e tu ora la lancia e la granata vieni dai 50 secondi ho finito le munizioni sulla pistola porto due per un momento io vedi e qua vieni e munizioni gentilmonte grazie a molle mio super bergi ne metto altre va eh così finiscono immediatamente però si dai ragazzi però ve le prendete per senza niente grazie al cazzo che non ce la faccio no a me avevo utilizzato le munizioni eh ex ferbose pure le ha finite si però a posto io ora posso spaccare i culi ragazzi serve l'abilità quella la che cioè possiamo utilizzarlo più di una volta dai mancano 10 secondi eh mo escono un sacco di cose io e fare l'abbiamo fatto ma non erano così tanti i soldi ora hai capito quanti sono guardate oh mio dio andiamo 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 minchia lingotti ragazzi si può correre si può correre venite si può non buttare sul rullo ma perché non posso correre perché le porta da solo ma è una perdita di tempo no no le buttiamo tutti qua e poi sull'altro rullo aspetta x ferbose dove sta il maiale voglio il maiale dove l'hai preso il maiale il maiale no fa culo vai buttatele farli dove l'hai preso il maiale ok ma stiamo facendo una catena umana è meglio la facciamo prima è bene ok fireman io potevo diventare un figlio di buio maiale l'hai preso ok la tua sa io non posso correre il taser aiuta il taser aia mi cagano aia che cagano stai con il figlio di bulla ok adesso sull'altro rullo 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 aia vai le metto sul rullo passate sul rullo vai vai aspetta ma ci sta la gente là tutte sega stanno due due juggernaut buongiorno amore mio minchia ma minchia ma non muore minchia io aiuto ma mori male è morto guardia l'ammazzato adesso questo qua è mio giù mi dispiace uuuu ucciso l'ucciso ma non ce ne sono le sti cosi raga posso piazzare il medico si piazza il medico no no aspetta non ce ne serve ancora ti metto ti metto quello singolo fermo ma io almeno l'ho messo che sprechi muta troia di me ragazzi sono salito un attimo perché non aspettate di qua che sono a merda hai detto di non dividere sei il primo che lo fa lo so perché sto freddo puntone poi guardate che sto sopra di voi non sono letteralmente un tonno ah qui c'è un medico chiunque la voglia grazie l'ho messo io ragazzi venite qua sopra perché qua c'è la benzina senza che poi ritorniamo dopo dove sta la benzina va bene rimango sotto rimango sotto se no si fregano i soldi va bene fai la guardia voi due rimanete sotto a prendere i soldi ok vai 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 Joe sta qua prendi la benzina Joe dove sta dove sta qua qua prendila prendila così dopo non dobbiamo entrare qui gioco ciao non c'è nessuno qua fuori ok c'è nessuna andiamo a gioco perché c'è legge la macchina non ti dico ti fa un po' più di tanno ehm l'ex ci sta la macchina ti piace ti macchina che piace io posso prendere cosa la prestigia delle fiche che fa la punta il mio conti che quello d'ammazzo ehi ammitella l'invito e giocatore giochieri caccio io ho un po' e qua sono il pro quello sono a terra sono c'è nessuno vieni 4 minchia il cotto il non parolone poi il nuovo hai acqua spazio aiutare dei posto della minchia vieni qua ma mori non si fanno ste cose al lunare i borsoni sono rimasti così pochi già l'avete portato i borsoni c'è la macchina qua fuori comunque aaaah ah no non ho munizioni sulla non vedo un ca stanno là le munizioni ci stanno i mega cosi aspettate ma non c'è la mitragliatrice sopra no, c'è un'altra macchina dietro c'è un'altra macchina dietro vatti che c'era qua dietro chi l'ho cito? accendo la benzina qua accendo io gianni tu gianni si chiama digno ciao gianni il borsoneo ne sta coprendo nessuno no sta andando io tranquillo hai ottenuto 300 mila euro eh volevate prendere il borsone lancia una bomba grannotto lancia una bomba ma dove te ne stai andando lillo ragazzi mi sa che lillo è morto ma fanno qua vedi ho preso un borsone ma qua dove che stai laggiù ciao eccomi qua ma che cazzo sento un teaser aia aiuto oddio ha perso la testa ho un borsone dove lo devo portare buttatelo qua fuori buttateli qua fuori che lillo li prende lillo li prende li va portare là dentro buttateli qua fuori e basta la bomba ah ah aiuto taser ricarico e lo ammazzo no taser ecco ci cato pure son morto oh creepio negro ma io non ho niente morto ma lillo perchè teniva solo su lillo ma tu tenessera solo lì giù ma se mi ma se stavo portando i cosi ma non serve a niente per portarli là dobbiamo portarli insieme se no qua facciamo quasi qua non ha più munizioni sulla cosa sulla cosa sulla cosa sulla mitraiatrice per ieri io sono senza vita senza ma che tanto anche se hai aiuto dove io non mi sono vivo sono vivo sono vivo che ammazzato ma quando c'è un paese mi ritorno mi ritorno giù arrivo vai vai vieni dai alberto colo ce la farò però da un certo punto di vista sono anche felice se credo così almeno di nuovo le munizioni ma no alla fine ragazzi salvate il maiale raga monica non so di tutto giovanni piazza una benetta trappola ok qua 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 metti pensava qui è più vicino poi ci metto tutto luna luna ho pensato la benzina di vita si aspetta un secondo qua c'è la trappola sfer boss ok vieni vieni che cazzo io lo faccio a fare aiuta il cecchino per perdere tempo alto inter questa terra vengo arrestato tra poco l'alzo io fermi tutti ecco fatto oh l'alza la gru che vai veloce però alzala velocemente non lentamente non lento una matrimire un kit medico il titolo un euro ma chica ma certo amore vieni 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 ti ho fatto tene da dare con quale faccia sicura si è uscita dalla gru se non sto qua non prende un cazzo no ma no quello questo deve prendere ciao qua oh ragazzi sono qui sopra io mi copro da quassù mi sto qua ma la so ma la so la mia bisogna di chiammo oh armi da lancio le prendo ditemi che ci avete le munizioni e non le avete sprecate no io ho fatto vedete che cosa stavo dicendo e non usate le persone sani No, ci servivano e le abbiamo prese. Eh, sì. Eh, so qua, munizioni mi sembra. No, vado a fare un culo. Sono bombe, no, kit mi ha. Munizioni, munizioni. Munizioni, curo. No, a me è lì, lo mi... Munizioni! Cucu, finite. Sono finite. Io l'ho preso per me. Ma che cazzo volete? Vi avete sprecato due pacchi di munizioni. Io uno ne ho utilizzato. Ma io, quanti sono? Sì, ma la gru? Che cazzo è la gru? Ehi, tu. Ma stanno ancora ci spostando, vedi, stanno là. Mannaggia. Guarda, non è che stanno là. Qua c'è un... Oh, qua ci sta un pacchetto pieno di bombe. A chi servono le armi da lancio. Eh, pure io. Sarebbero le bombe. Grazie. Oh, io sono salito in giù un... Peccato che stai morendo. E che è morto giù. Perché dovevi fare la cazzo... Ma un culo, lo volevo rianimare io. No, morivi. Ma mi interessa un po'. Ah, ma stanno quelli là di in alto. Non mi fanno manco... Ma... Ragazzi, scusate. Sono crashato, però la partita è ancora in corso per loro. Sono semplicemente crashato. Stavo non andando alla partita. Perfetto, eccomi qua. Non aiutami. Ragazzi, sono semplicemente crashato. Non è successo niente. Ok. Non mi fanno aiutami. Non ho munizioni. Come? Quella bomba. Hai al chaser. D'altra parte. Aiutatemi. Ragazzi, volete sapere una cosa? Eh, si incinta. Ora che sono entrato, non c'ho più i kit medici. Eh? Megione anche. Non c'ho più kit medici. Mi sono entrati solo non c'erano. Non c'erano solo 5 colpi di pistola. Ragazzi... Ragazzi... Ma avete già detto... Ragazzi, mi stanno a uccidere. Cura a me. Medico, 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 mio, mio, mio. No, per favore, ragazzi. Mi serve a me che le ho finiti. Ci sono due città che c'è quello là, quello è l'amore. Lancio una bomba allora. Eh, è vero. Giù. Ma sei un co***e. No, non è vero. Mi ho lanciato una... Mi ho lanciato una... La bomba. No, non c'è. Ho un medico, il file, qui. Nel capito, ma... No, no, no. No, no, no. Questo qua è un kit medici. Ragazzi, mi serve il kit medico. Ah, questa qua, luna, luna, qua. Ah, tutti stronti. Ah, tutti stronti. Ah, i... Ma, perché sono... Ritornato senza munizioni. No, senza munizioni. Senza roba. Ragazzi, camperateve la visita. Ho tre cecchini, con gli unici tre colpi che avevo. Aspetta, no, c'è dei... Dei colpi. Io sto... Sto rossicando i colpi. Giovanni, guarda, ho dei colpi. Ho dei colpi. Tipo, no. Stronzo di merda. Ma che cazzo è, ma ne ha tutti... Oh, buongiorno. Ma no, munizioni, c'è un tider. Ma non è male. Xper boss, ma dove vai? Solo tu. Venite a camperare qua dietro. Ti dite le munizioni per terra, due colpi. Ti rianimo io. Madò. Vai. Ecco, ragazzi, scappate. Venite, venite. Aia. Ma santo Giovanni, di Dio. È quel cecchino di merda. Fire, vieni, vieni. Di qua, di qua. Non cato, non cato. Venite, venite. Non cagateli di striscio. Non cagateli di striscio. Di qua, di qua. Venite, venite. Correte e basta, correte e basta. Mi cazzo sono, aiuto. E quello posso fare, ma non puoi più. Certo, vedi che c'è il senso di orientamento di una merda. E grazie, mi ha ciecato. Corri, Lillo, corri. Teni, gli scudi. Prendete la vostra arma più leggera, correte. Cioè, la mitraglietta. Oh, c'è il bianegra. Venite, 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 andiamo. Vai dall'altra parte. Oddio santo. Lillo, vieni. Non cagateli. C'è il jag, ci sono i jag, venite. Non accendate, non accendete. E lillo come passa? E lillo, passa a traccia il buco. Oh, ragazzi, è finita. Venite, venite. Intanto si sente il rumore incredibile delle buffe di Sperbos. Un milione. Ragazzi, 5 milioni. Bonus, banda viva? Amato. Estero? Ragazzi, 2 milioni. 2 milioni di bottino. 2 milioni. Vabbè, 1 milione e 874 mila. Eh, 400 mila di esperienza, più 132 mila, più 11 mila. So 700 mila io. A me non me l'ha dato l'esperienza perché mi sono crashato. Quanto l'ho dato? Sì, mi chiedeva di un botto in un botto in un botto. Quanto l'ho dato? Non sto salendo di livello. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto in cominci a salutarmi qua. No, aspetta, dobbiamo fare le carte. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Tutti quanti al centro. E io ho fatto al centro. Tutti al centro l'abbiamo fatto. A far culo, l'universo. E' tenuto da modificare l'allarma. Calcio standard. Uh, veterano. Veterano. Guardiamo. Quindi ragazzi, a presto. Bella. Ciao. Ciao.